La Progerchieti ha presentato due dei sei nuovi acquisti per la prossima stagione cestistica di A2. Il Play Mattia Venucci, classe 1990, nella passata stagione in forza al basket golfo piombino, arrivato ai play-off. Il Playmaker è stato eletto miglior giocatore del campionato di Serie B ed ha dalla sua numeri di tutto rispetto 19,7 punti, 4,9 rimbalzi e 4,4 assist di media. C'è tanta voglia di crescere e di alzare questa sticella che ti permette di migliorare sempre di più. Spero sia un anno positivo, non tanto per me ma spero sia positivo veramente per la squadra e per il gruppo. Non sarà facile però ci proveremo, faremo di tutto per far sì che questi numeri tornino. E poi c'è Domenico Antonicelli, guardia classe 1997, che ha militato in Serie B nel basket Francavilla, un giovane di belle speranze che vuole ben figurare con i colori bianco-rossi. Sarà un anno molto lungo, avrò tanto da imparare da tutti i compagni, dal coach, dal preparatore Dante che ho avuto modo di conoscere qualche giorno fa. Sarà un anno molto bello. La Proger subito dopo Ferragosto si metterà al lavoro per preparare la nuova stagione. Ritrovo con coach Massimo Galli il 17, poi il giorno successivo primo allenamento al Palatricale agli ordini del preparatore atletico Dante Falasca.